Musica Ben ritrovati, nuovo appuntamento con il nostro magazine dedicato alla Palla Tamburello come sempre sono tanti gli argomenti che andremo ad approfondire tanti temi dedicati a questa interessante disciplina non li approfondirò da sola perché qui presenti in studio insieme a me c'è il presidente della federazione italiana Palla Tamburello Edoardo Facchetti, ben ritrovato Edoardo Grazie, buongiorno a te e ai telespettatori Allora come detto andremo ad approfondire tanti temi andremo anche a tracciare un po' un bilancio finale di quella che è stata la stagione Open con il torneo che è stato combattuto fino alla fine soprattutto per quanto riguarda la serie a maschile Sì, diciamo che il Castellaro alla fine ha vinto secondo i pronostici però è stato un campionato interessante per cui si sono affacciate alla ribalta anche altre formazioni però credo che ci sia stata battaglia sicuramente come dicevi te fino alla fine e questo sicuramente per noi è importante sia per quanto riguarda le aspettative della federazione sia per quanto poi la visibilità degli spettatori E proprio ricollegandomi alla visibilità anche e soprattutto i campionati di serie C e D hanno avuto se così vogliamo la loro vedrina con la disputa della finalissima in un campo neutro che è sicuramente un dettaglio che ha conferito maggiore spettacolarità al torneo Sì, infatti sono stato spettatore di entrambe le partite di finale sia di serie D che di serie C tanto pubblico, tanta passione partite agonisticamente interessanti per cui devo fare i complimenti a tutte le squadre che si sono impegnate e che sia vincitori che vinti comunque diciamo che sono stati bravissimi Prima tra l'altro fuori onda parlavamo anche un po' del discorso della PIL che poi effettivamente questa disciplina può avere sul campo, giusto? Sì, diciamo che niente come esserci come recita un vecchio detto perché è vero che da un punto di vista televisivo qualcosa eventualmente si perde su un campo lungo 80 metri per cui la presenza fisica sullo sferisterio diventa basilare perché possa essere apprezzato ancora di più il gesto atletico Certo, poi come per tutti gli sport un conto è vederlo in tv, un conto è vederlo da un video un conto è essere lì presente mentre si sta disputando Possiamo già anticipare un po' quella che sarà la struttura dei prossimi campionati? Beh, diciamo che nel 2024 la Serie A sarà 10 squadre perché è stata una scelta dettata, diciamo così, dalle circostanze alla luce anche di quelli che possono essere cambiamenti dovuti alla nuova legge sullo sport per cui alcune dinamiche sicuramente hanno fatto sì di questa scelta la Serie B è ancora in fase di costruzione perché comunque, diciamo così, siamo in attesa della risposta di una squadra o due per quanto riguarda il fatto di farla a 12 o farla a 10 per cui è chiaro che vedremo poi come strutturare al meglio un campionato di 10 squadre tenuto conto appunto della durata temporale e di quello che può essere la formula più adattabile Per il secondo anno, quest'anno verrà organizzato il Gran Galà della Palla Tamburello possiamo un po' spiegare agli spettatori a casa di cosa si tratta e quando e dove verrà celebrato? Sì, direi che è stata un'idea ben riuscita quella dell'anno scorso che è stato il primo andiamo a premiare le eccellenze del nostro sport specialmente Open per cui vengono premiati gli atleti gli atlete che si sono distinte nel corso del campionato in questo caso 2023 alla luce di una classifica che è stata stilata turno per turno dai allenatori che hanno stabilito quali erano gli atleti migliori in campo per cui questo determina una classifica che a fine anno permette appunto di poter celebrare questi atleti e questi giocatori alla federazione di poter dare anche dei premi o delle benemerenze a determinate società qualora ce ne fosse la necessità però al tempo stesso creare diciamo così un punto di incontro di aggregazione che possa permettere a tutti di poter chiudere un anno e quest'anno appunto sarà sempre nella stessa location prestigiosa dello scorso anno Villa Fenaroli Arezzato in provincia di Brescia sabato 2 dicembre Perfetto, nel corso dell'anno noi abbiamo più volte parlato anche della palla tamburello a livello giovanile possiamo tracciare un po' un bilancio su quelle che sono le iniziative che sono state promosse e portate avanti proprio dalla federazione relativamente a questo aspetto? Beh direi una su tutte perché in buona sostanza io credo che effettivamente quella che è stata promossa mi riferisco a giovani promesse sia stata quella che ci rappresenta in maniera emblematica quest'anno allora ci sono state praticamente cito dei numeri 6.000 atleti ragazzi e ragazze che hanno partecipato in circa 100 eventi che sono stati organizzati dalla federazione insieme alle società è stato veramente un grande successo più di 7.000 registrazioni per cui questo ci ha permesso da aprile perché il percorso, il progetto è iniziato a aprile quest'anno e terminerà mi auguro questo weekend a Brescia insieme a Bergamo Città della Cultura 2023 sperando nel tempo insomma che si riesca a organizzare questa tappa finale e credo che questa sia la dimostrazione che quando si crede in un progetto ben finanziato in questo caso da Sport e Salute che ci ha dato la possibilità di poterlo organizzare al meglio ecco si riescono a fare cose notevoli la federazione voglio dire è ben contenta e le società diciamo così pure perché possono mettere in mostra i loro futuri atleti agonistici tra l'altro anche proprio nelle scuole si organizza tanto assolutamente siamo una disciplina molto presente all'interno delle scuole specialmente per quanto riguarda i corsi della palla tamburello legati alla palestra quindi all'indor però questo ci dà lo slancio, la leva per poter poi traslare su un campo interabattuta coloro che magari hanno predisposizione o hanno la passione verso questo sport allora noi abbiamo in apertura fatto un po' un bilancio su quella che è stata la stagione open che però non è definitivamente andata in archivi ancora perché ci sarà ancora un evento nel fine settimana giusto? sì, è un evento che mi ha visto coinvolto perché comunque voglio dire ho partecipato con una squadra della federazione per poco non riuscivamo a qualificarci no scherzo ci hanno asfaltato quelli di Bergamo però ecco sì è in buona sostanza il campionato master che chiuderà con le finali sabato e domenica in una splendida cornice del Monferrato a Cocconato, provincia di Asti all'interno oltretutto di un sferisterio privato perché andremo anche a diciamo così celebrare un personaggio che ha dato tanto al tamburello il signor Conrotto che in buona sostanza diciamo così la famiglia ha accettato di poter permettere di fare queste fasi finali in questo splendido posto Cosa ci aspettiamo da questa partita proprio sul campo? Ma guarda sono quattro squadre molto agguerrite perché in buona sostanza quest'anno abbiamo scelto la formula delle province quindi le due semifinali saranno Asti contro Verona e il pomeriggio il derbissimo Bergamo contro Brescia quindi ecco sono due semifinali molto combattute perché le squadre sicuramente sono insomma ben attrezzate per far bene Allora a breve sarà protagonista come accennavamo prima la disciplina indoor senza scendere troppo nel dettaglio perché tanto poi comunque ne parleremo nel corso delle prossime puntate ci puoi dare qualche indicazione su come si svolgerà perché ci saranno delle novità importanti giusto? Sì quest'anno abbiamo scelto di o abbiamo optato la formula del campionato più strutturato sulla durata quindi inizierà con novembre e terminerà ad aprile un campionato unico di serie A sia maschile che femminile sette squadre nel maschile e altrettante nel femminile avremo la presenza di regioni diciamo così che per quanto riguarda l'open non sono presenti tipo la Sardegna la Sicilia poi abbiamo la Toscana la Lombardia e così via quindi è chiaro che da questo punto di vista non vogliamo che sia un esperimento io credo molto in questa opportunità perché dobbiamo pensare che l'indoor sia una disciplina che ci può dare una spinta ascensionale crescendo la base per cui è ovvio che da questo punto di vista questo tipo di aspettativa per noi diventa importante proprio per questo motivo dobbiamo riuscire a dare credibilità a un movimento che ne ha fortemente bisogno certo perché poi credo che a livello proprio di risonanza accrescere un po' il valore anche proprio dell'indoor ricada inevitabilmente anche sull'outdoor beh indubbiamente anche perché è ovvio che pur essendo due discipline che hanno movimenti e comportamenti tecnici diversi però fanno parte di una stessa federazione quindi sai come si dice una mano lava l'altra e poi tutte e due la faccia quindi è ovvio che da questo punto di vista l'indoor può aiutarci perché può far crescere la palla tamburello in realtà in regioni dove è sconosciuta per quanto riguarda l'open e quindi questo per noi rappresenta anche un motivo diciamo di percorso di crescita e su questo dobbiamo crederci movimento sempre più in crescita e che speriamo vada sempre più in alto volevi aggiungere qualcosa in chiusura prima di salutarci? Beh io ovviamente volevo ringraziare tutte le società per quanto riguarda l'attività open visto che è l'argomento principale di qualsiasi livello i giocatori i dirigenti tutte le persone insomma che sono state capaci di dare un contributo di passione di volontariato a questo movimento ci sono state appunto realtà che hanno vinto Castellaro Guidizolo Valgatara nel maschile piuttosto che eventualmente nel femminile Ceresara Tigliolese e quant'altri Castellalfero Ciserano per cui è chiaro che da questo punto di vista credo che ripeto al di là dei vincitori siamo tutti vincitori perché ognuno nel proprio ambito ha portato quella voglia quella volontà che è la determinazione e passione che serve per una attività sportiva come questa e io credo che mai come oggi al netto di quello che succede i valori sportivi siano anche fondanti per una società civile e questo è bellissimo ci dobbiamo salutare Edoardo io ti ringrazio per essere stato qui con me grazie a te a voi per averci seguiti la federazione la palla tamburello torna la prossima settimana con un nuovo appuntamento sempre qui su Sport Italia grazie grazie